A me, non mi fregate. Io vivo bene, benissimo. Come faccio? Sono single, single convinto. E adesso vi spiego i vantaggi di questa vita. Avete presente l'un dove rende conto a nessuno? Ecco, questo è il primo vero vantaggio. Ho voglia di correre? E corro. Ho voglia improvvisamente di correre indietro? E corro indietro. Mi viene voglia di stare un'ora a salutare i passeggeri di un aereo che vanno chissà dove? Ciao, ciao Aereo Planino! E li saluto. E poi, voglio fare una cosa, la faccio. Voglio pensare una cosa, la penso. C'ho sonno, vado a letto. Ho voglia di fare l'amore? Siamo Mirna. Stasera lo sai che sono per te? Chi sei? Sono... Mini Mignotta. Dio, veledì, a voi, Disney. Numero che moltiplicato per uno dà sempre uno, uno. E infatti Mimotte è sempre stato uno per tutti, uno. Ale! Punto gioco partito, ho vinto io! Ciao, muro! Insomma, per risposta a tutti i miei amici fidanzati o sposati e in eterna crisi con se stessi e con le loro donne, io avevo calato l'asso della libertà oltranza e stavo bene, parecchissimo bene. Secondo voi sono egoista? Sono un tipo egoista? Sì, 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 sono egoista, sono egoista. Buongiorno, Firenze! Sì, e va? Buongiorno, una sega. È dalle quattro di mattina che sono sveglio. Vogliamo raggiungere il massimo del paradosso? Io sono singolo e libero anche nel mio mestiere. Pur di non aspettare il naturale arrivo delle stagioni, io le stagioni e me le fo da solo. Le fo arrivare quando voglio io. Pioggia, neve e grandine. A domicilio. Che neve t'ho fatto stamani, eh? Eh, è buona. È buona sì, ma che è tedesca?